Finalmente abbiamo qualche punto in classifica, continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi dieci. Ho fatto una qualifica schifosa come al solito, però ho un piano, ho un piano di partire con l'auto molto scarica di benzina, diciamo 13 giri e 2 su 13 e l'alettone davanti a 10 per poi cambiare a 5 durante il pistò, ci pensano i meccanici, però ci vuole una super partenza qua. Che non è arrivata, però in staccata magari, niente, ci riprovi, ci riprovo. Lo Svartsman lì. Dai, dai, dai. No, esagerato. Perfetto, così dovevo fare prima. Intanto metto già 5 giri per il pistò. 5, ok. C'è da tenere d'occhio il consumo delle gomme posteriori perché dietro è scarichissimo, eh. No, no, l'alettone. No, 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 no. Al momento siamo a dodicesi. Davanti c'è Schwarzman. No ho bisogno di res. No ho sbagliato. Purtroppo scarica il posteriore. Devo stare più attento. Devo stare sotto il secondo per il DRS. È l'unico. Vediamo un po' di lottura e energia. Dai che lo passo anche senza. Dai dai dai. Tirato dalla scia e poi all'esterno. Stiamo avvicinando la finestra del big stop. Monteremo gomme medie. Allora le gomme sono messe e iniziano a consumare con le posteriori. Allora le gomme sono messe e iniziano a consumare con le posteriori. Sto perdendo terreno con il sonno. Faccio ancora un giro e poi anticipo di un giro. big stop. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è otto e per la sei secondi. Windowsul di controllo che ha anción dabei. Allora le gomme sono messe e di Italy al mio gusto. ho visto stare sotto al secondo sul rettilineo lungo eh però ho 20, ho le gomme posteriori già funzionate al 20% mi dovete riempire subito qua, box in questo giro no 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 stupido non guida da solo, la devo fare io quel pezzo lì allora gomma gialla e aerodinamica civica complimenti a te e alla crew, siamo soddisfatti ok, evita la linea abbiata perfetto, non ho neanche traffico, così posso spingere come un animale grazie a tutti grazie a tutti nooo, non ho fretta di capito di entrare sull'acceleratore ho fatto sta cazzata eccolo lì O'Conno, quello di primo come primo, uguale, dietro lui, però sono vicino e adesso bottas ma lui ha cambiato le gomme ma lui ha cambiato le gomme, aspetta, adesso gli chiedo davanti si, ha fatto il fissuto il bastardo non so se l'ha detto sta lì davanti cioè sta lì davanti ad avvicinarmi, due secondi l'unica fareste così queste furbate qua c'è lì davanti ad avvicinarmi c'è lì davanti ad avvicinarmi devo lasciar caricare la batteria ecco, lui ha le gomme fredde sciumate nooo, nooo, sta cazzata nooo ma perché, ma perché, perché fa così no, devo frenare perfetto, sì lo fai sembrare facile ecco, è che dai che ce l'ho, c'è il drs su botte lo sverniccio via come Toretto penso Sainz le gomme dietro sono ancora buone e attenzione, safety la safety car uscirà a breve riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità, rallenta immediatamente cosa faccio? entro a mettere le rosse? no non ha senso, un ottavo finirei poi dietro parecchi pochi giri dalla fine abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri qui Grazie a tutti. 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 Non devo far raffreddare le gomme. Attenzione, stupido. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ormai il gruppo è compatto. Devo spaldare bene la gomme. Ok, si riparte. Grazie a tutti. Triplice sorpasso leggendario, un po' rubato, ma godo come si gode da mettere proprio all'inizio del video sto sorpasso. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Chiusa il sorpasso. Chiusa il sorpasso. Nooo, quella macchina scarica. Nooo, quella macchina scarica. Chiusa il sorpasso. Chiusa il sorpasso. Chiusa il sorpasso. È un sorpasso. Partito. Puoi andare. Comunque, le gomme posteriori sono andate. si vede quando faccio la curva mi accontento del quinto posto la curva non riesco poi lui prende la scia di Russell abbiamo carburante e sai se riesco stagli sotto proprio mezzo secondo sul DRS alla fine magari con le gomme così distrutte dietro nooo per una cazzata per un piccolo tagliettino nooo ho fretta di voler stare addosso no addosso nooo 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 eh niente ti ho provato dai più di così ciao a tutti finisce qua la gara e il video è la fine della gara ci vediamo nel parco figo ciao a tutti